La Polizia di Modica, in collaborazione con il Reparto Prevenzione e Crimine di Catania, ha effettuato i servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Ispica, finalizzati a intensificare le attività di prevenzione dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli predatori, ma anche di altre azioni illecite che possono turbare l'ordine alla sicurezza pubblica. Nel corso dei servizi, le pattuglie hanno battuto a tappeto diverse zone del centro storico della città, oltre alle zone periferiche. L'attività complessiva svolta da 5 equipaggi è di 44 persone identificate, 22 veicoli controllati, oltre a diverse contravenzioni elevate per violazione del codice della strada. Sono stati altresì controllati i soggetti sottoposti a misure di sicurezza e misure di prevenzione, al fine di verificare l'ottemperanza e gli obblighi loro imposti. Questa attività segue quella di contrasto al fenomeno migratorio effettuato due settimane fa, sempre nel Comune di Ispica, nel corso della quale la Polizia ha controllato 31 immigrati, di cui uno non irregola, con le norme sul soggiorno, sul conto del quale è stato emesso decreto di espulsione dal territorio nazionale. Controlli ieri sono stati effettuati anche a Modica, con numerosi posti di controllo, soprattutto in centro storico. Continua dunque incessantemente l'attività di prevenzione e controllo della Polizia nei Comuni di competenza giurisdizionale del Commissariato di Modica.